Ciao Valentina Mandilli, esperta di strategie social e LinkedIn trainer. Faccio questo breve video per informarti che LinkedIn ha aggiornato il layout, quindi la grafica del suo motore di ricerca interno, ma non c'è nessun problema perché sono rimasti gli stessi comandi, solamente abbiamo, come vedi qui in alto, una barra dove possiamo andare a selezionare chi o cosa vogliamo cercare, quindi offerte di lavoro, aziende, gruppi oppure scuole università. In questo caso se cerchiamo le persone, questa è la selezione giusta, successivamente possiamo andare a impostare dei filtri, filtri geolocalizzati, filtri di livello, quindi primo livello sono persone che sono i nostri contatti, dal secondo in poi non sono i nostri contatti e possiamo, faccio vedere l'esempio, acquisirli semplicemente mandandogli, cliccando su collegati e mandando, aggiungendo una nota con un testo di massimo 300 caratteri che può presentarci, aiutarci a farci conoscere. Bene, tutti gli altri filtri che dicevo sono presenti, per vedere tutta la gamma dei filtri bisogna cliccare su tutti i filtri e andare a selezionarli come meglio crediamo. Una volta finito bisognerà cliccare su apply e qui ci compariranno dei risultati differenti. Questo è tutto, ti ricordo di visitare vandilli.com, il mio blog dove troverai articoli di approfondimento su LinkedIn e anche sulla vita da freelance perché il mio lavoro è quello di attivare i successi dei freelance attraverso un percorso che si chiama Valore Unico, troverai tutto sul mio sito. Ti saluto e buona giornata, ciao! 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 Grazie a tutti.